Il governo azzarda, ci prendiamo un rischio calcolato, dice Draghi, sulle misure in vigore dal lunedì 26 aprile. Se i ristoranti e i negozi potranno riaprire all'aperto, lì dove il virus è quasi non infetta, alunni e insegnanti saranno costretti dentro, ad un mese e mezzo dalla fine delle lezioni, in aule e pullman-pollaio. Sul responsabile comportamento dei singoli si stanno scaricando promesse vane ed errori gravi, come la cronica mancanza di screening, il tracciamento inesistente dei dati di contagio in zona rossa e sindaci lasciati soli a decidere non sulla base di criteri oggettivi, ma sulla scorta di pressioni e sensazioni del momento. Uno scandalo, come in molti angoli della provincia, è il mancato potenziamento del trasporto o l'inesistenza di medici scolastici a completare quello che sembra un delitto perfetto. Nonostante tutto il paese riapre, giusto, ossigeno per l'economia, occorre aprire tutto quel che si può con rigorosi controlli che finora sono stati tuttavia inesistenti, perché se nessuno controllerà l'ondata di aperture diventerà un boomerang di contagi. Sbaglia Draghi quando dichiara che riaprire è il dono che il governo fa alla scuola. La ripaga davvero così dei sacrifici di mesi in didattica a distanza e dei danni che ineludibili affiorano negli adolescenti. Dietro l'euforia comprensibile del ritorno tra i banchi, nascosto in omaggio ai ragazzi, c'è anche il rischio evitabile della perdita di altre vite umane nelle famiglie, soprattutto senza il decollo immediato di una campagna vaccinale che procede a rilento. Scuola, tema deformato. Il rischio è stato davvero calcolato fino in fondo?